Speed date. Sette consigli per attrarre le donne che conoscerai quando parteciperai. Vuoi andare a uno speed date e conquistare molte donne in pochi minuti? Sì, si può fare. Ti basta seguirmi in questo video e ti spiegherò passo passo la strategia da seguire. Ma prima, hai già scaricato il report Conoscere donne? Per scaricarlo puoi cliccare qui al lato o trovi il link anche in descrizione. Mi raccomando, è molto importante che tu lo legga per migliorare nell'approccio. Detto questo, iniziamo! Dovresti assolutamente provare uno speed date. Perché? Costa pochissimo. Di solito sui 20 euro. Con pochissimo sforzo conosci molte donne. Anche se sei timido, lo speed date va bene perché è un contesto molto amichevole. Se poi non sei timido, vai alla grandissima. Se sai come giocartela, riesci a attrarre molte donne. E in ogni caso è un bel modo di parlare con persone nuove, conoscere donne e divertirsi. In altre parole, uno speed date è qualcosa che non puoi perderti. Sette consigli per conquistare a uno speed date. Vediamo adesso la strategia nella pratica con sette consigli molto importanti che dovresti seguire. 1. Appena arrivato al posto, non guardare le donne come se fossero carne. Sì, lo so che sembra banale, ma io ti conosco. Vai là, ci sono 20 donne pronte per conoscerti e i tuoi ormoni iniziano a giocare brutti scherzi. Quindi, appena arrivi, rimani rilassato con un bel sorriso. E non ti mettere a squadrare tutte dalla testa ai piedi. Uno sguardo veloce ci sta. Fissarle con la bava alla bocca? No. 2. Non fare gli errori che fanno tutti. Hai una grande fortuna. La tua fortuna è che la maggior parte degli uomini che ci saranno lì faranno i classici errori che fanno tutti gli uomini. Tu invece li puoi evitare. Ti basta conoscerli. Per farlo scarica subito il report gratuito Seduzione i 37 errori più comuni. Per farlo puoi cliccare qui al lato o in descrizione. Mi raccomando, è importantissimo. Già questo ti porterà 10 passi avanti a tutti gli altri. Garantito. Dato che i vari errori di seduzione da eliminare sono già contenuti nella report, non ne parlerò qui. Altrimenti mi tocca scrivere un poema. Mi concentrerò invece sui consigli specifici per lo speed date. 3. Non sederti ingubbito. Ti verrà da sporgerti sul tavolo e piegare le spalle in avanti, richiudendole. Questo sia perché non vorrai farti sentire dagli altri tavoli, sia perché ti sembrerà di creare una sensazione di intimità avvicinandoti. Non farlo, a meno che non ci sia già un forte interesse. Ok, avvicinarsi un po', soprattutto se c'è feeling. Sporgersi in avanti con le spalle curve, no, se non c'è interesse da parte sua. 4. Spezza subito la tensione. Ok, entriamo nel vivo del discorso. Appena ti siedi, ci può essere una certa tensione e bisogna assolutamente rompere il ghiaccio. Sì, non c'è tempo per annusarsi, hai pochi minuti e devi essere efficiente. Il modo migliore per rompere la tensione è una battuta simpatica, meglio se ti viene spontanea naturalmente, ma non è detto che tu ce l'abbia pronta. Il bello è che, essendoci già tensione, anche una battuta non troppo divertente farà scattare un sorriso, e a te basta quello. Ad esempio, potresti dire Ciao, non sono uno dei partecipanti, sono del controllo qualità, come ti stai trovando? Con tutto questo parlare della parità dei sessi, non sarebbe corretto che noi uomini ci sedessimo e fossero le donne a girare? Occhio che è una battuta. Non perderti in filippiche sulle parità tra uomo e donna, ti prego. 5. Fai domande diverse dagli altri. Che domande fare? Ok, ci sta a chiedere cosa fai nella vita. Il punto è non chiedere solo quello. Tutti faranno le stesse domande, tu dovrai essere diverso. Fai quindi domande che spiazzano, creano emozioni e ti fanno apparire diverso dagli altri. E sì, è molto più facile di quello che pensi. Ad esempio, se fossi il personaggio di una storia, di libro o un film, chi saresti? Qual è stato il momento più bello della tua vita? Qual è la cosa più assurda che ti è capitata mentre frequentavi un uomo? Cose di questo tipo. Bada che, uno, devi avere anche tu una risposta pronta alle domande che vuoi fare. Nel caso poi, le faccia lei a te. Due, se vedi che ci pensa troppo, fai una domanda più semplice. Non hai tanto tempo per aspettare un mese e una risposta? In ogni caso, ti dico cosa succederà. Farai la tua domanda, lei sorriderà sorpresa e ti guarderà mezzo secondo per vedere se sei serio. La tua espressione sicura e rilassata le faranno capire che non sei come tutti gli altri. E la prima scintilla di curiosità sarà scattata. TAC! Sei! Non pensare di dover dire tutto di te. Cosa dire di te? Ti verrà spontaneo voler dire mille cose di te. Non farlo. So cosa stai pensando. Eh, ma se non mi faccio conoscere, come faccio a conquistarla? Facciamo un esempio. Immagina di dire tutto di te. Lei dice tutto di lei, ma non hai creato feeling e attrazione. Come andrà a finire? Sicuramente non bene. Immagina invece il contrario. Vi dite poche semplici cose e poi scherzate e flirtate. Si crea feeling e cosa succederà? Lei segnerà il tuo nome sulla scheda e gli organizzatori vi daranno i reciproci contatti. Il farti conoscere non vuol dire che lei sappia tutto di te. Il feeling che si deve creare è qualcosa di sufficiente per fare in modo di incuriosirla e attrarla. Per quanto possibile, in pochi minuti, si intende. 7. Flirta con tutte ed evita di preoccuparti. Qualcuno si potrebbe fare dei problemi del tipo Magari mi trovo bene con una donna, dopo però cambio tavolo e lei mi vede flirtare troppo con un'altra, mi crede un donaiolo. Primo, se lei ti vede flirtare con un'altra, si creerà in lei un po' di gelosia e questo può fare solo bene perché aumenta l'attrazione. Secondo, se una donna ha uno speed date, non ha la maturità di capire che sei lì per conoscere donne e dopo due minuti che parlate assieme non può pretendere che tu le sia fedele, è una paranoica e le dovresti stare alla larga. Ok essere gelosa un po', ok anche far finta di essersela presa quando vi rivedrete, farti le storie no, quello proprio non va bene. Quindi flirta con le altre e non preoccuparti. Buon divertimento! Prima di salutarci, hai già scaricato il report Conoscere donne? Per scaricarlo puoi cliccare qui a lato o trovi il link anche in descrizione. Mi raccomando, è molto importante che tu lo legga per migliorare nell'approccio. Per scaricarlo puoi cliccare qui a lato o trovi il link anche in descrizione. Per scaricarlo puoi cliccare qui a lato il link anche in descrizione. Per scaricarlo puoi cliccare qui a lato o trovi il link anche in descrizione. Per scaricarlo puoi cliccare qui a lato o trovi il link anche in descrizione. Per scaricarlo puoi cliccare qui a lato o trovi il link anche in descrizione. Grazie a tutti.